cosa facciamo col tuo otto per mille? chiedilo a Don Babbea che cura i feriti nelle zone di guerra Don Babbea? Sì? Ma qui non siamo in zona di guerra e poi io non sono ferito Ah no? Eh no! Ma ne sei proprio sicura? Adesso sì però! Ma sei scemo! Sostieni anche tu la chiesa aria frittiana Vieni a vederci a Lodi presso il Risto Pub Primo Piano in via Defendente 82 sabato 24 giugno Tranquilla Marchesa vengo io a curarti Ma vabbè! Ma come sei scurrile! Su pentiti! Vi aspettiamo! Stavato 24 giugno! La chiesa aria frittiana si prende cura di te e ti aspetta per Milano Tacco 12 in tour al primo piano di Lodi Grazie a tutti! Grazie a tutti!